C'è grande entusiasmo per questa zezza, ci sono tanti figuranti quest'anno e la caratteristica che ci distingue forse dagli altri gruppi è che c'è il capo zezza che sarebbe una persona che viene scelta nel gruppo dal capo zezza stessa e che è colui che continuerà questa tradizione. Festa grande lungo corso Vittorio Emanuele, il carnevale anima il centro della città capoluogo merito della storica associazione dell'azzezza di Bellizzi che ha organizzato una grande sfilata la prima per quest'anno, la seconda si terrà martedì prossimo alle 10.30 sempre nel pomeriggio di martedì la carovana si sposterà a Bellizzi canti, balli e centinaia di maschere proveniente da molti comuni dell'Irpini hanno invaso Corso Vittorio Emanuele tanti bambini che accompagnati dai genitori hanno partecipato alla sfilata soddisfatto il sindaco Paolo Foti voglio ringraziare gli organizzatori di questa manifestazione molto attesa e particolarmente sentita in città per l'intenso lavoro svolto in questi giorni e per lo spettacolo che hanno saputo regalarci mi auguro, continua il sindaco, che vada in porto la costituzione di una fondazione e la creazione di un museo che possa preservare e tramandare nel tempo questa attività identitaria rappresentata dalla CESA anche al di fuori di Avellino